ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spalino punto com appuntamento numero 15 con la nostra diretta stagionale ciao leo biscuola ciao a tutti ci sarebbe dovuto essere anche martina poletti con noi ma sta avendo problemi tecnici di natura non meglio specificata quindi la aspettiamo vediamo se riuscirà a unirsi a noi ricordiamo che martina squersanti sia ufficialmente ritirata da dalla nostra squadra per impegni lavorativi e quindi siamo io e te leo come la settimana scorsa altra parte questa settimana non abbiamo neanche un ospite perché perché l'ospite che tra l'altro l'ospite prestigioso leo che aveva come dire accettato di apparire nella nostra diretta ha chiesto una settimana di tempo la richiesta è voglio vedere la spal di venturato dal vivo e poi vengo in diretta quindi alimentiamo alimentiamo il mistero sull'identità del nostro ospite ma le cose stanno così alimentiamo il mistero però per una giusta causa perché obiettivamente quando e se mai dovessi andare in porto a questo punto no dai mercoledì prossimo a meno di i problemi non si sa mai però comunque è un ospite importante è un ospite importante diciamo che ci sono anche delle sfide tecniche da superare probabilmente però comunque siamo fiduciosi la parola c'è la parola c'è e quindi contiamo di proporvi l'ospite mercoledì 19 gennaio dopo che la spalla avrà recuperato la partita con il benevento arrivano i primi saluti di stefano di elena mattia e di claudia che salutiamo ciao a tutti non abbiamo i centomila collegati dell'altra volta che l'altra volta c'era molta 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 carne al fuoco stasera poi c'è anche la supercoppa italiana mi viene a pensare che qualcuno ha uno sguardo glielo dia insomma e quindi ci sta a essere un po meno un po meno seguiti ma comunque va bene abbiamo il nostro pubblico che è sempre molto fedele attenzione aspetta che vedo un collegamento del tutto inaspettato ciao a tutti visto che negli ultimi puntate abbiamo ricevuto molteplici proteste per il fatto che c'eravamo solo io e leo comunque anche quando abbiamo fatto la puntata con davide su a team sono arrivati decine di commenti sull'eccesso di braga tanto la pollice è frizzata bellissima spero che la tiro via prima che aveva un bel sorriso è però sto per fare lo screenshot infatti va bene si si rimetti con lo screenshot eccolo vai per lo screenshot è comodo ok e allora ora abbiamo avere un allenatore ma insomma c'è stato un altro annuncio ufficiale che è quello di finotto che dopo aver pubblicato le notizie anche finotto sblocca lì tanto dice buzzo ho appena visto che ci hanno sganciato anche un like su instagram mattia ci vuole bene ecco mattia fa parte della crew di quelli che ci vogliono bene e poi guardiamo che mattia l'anno scorso l'anno scorso sì è apparso anche in una delle nostre dirette cioè c'è un bel rapporto con mattia finotto però non ho ben capito sinceramente cosa ne pensa i tifosi perché sotto il nostro cosa ne pensano i tifosi perché sotto il nostro articolo ci sono stati dei pareri discordanti no c'è chi diceva cena post c'è chi diceva ancora un mercato con i soldi del monopoli pochini contenti mentre oggi insomma la situazione sembra un po un po diversa io orla prima di chiederti che cosa ne pensi tu ti dico che secondo me ma ne avevamo già parlato anche la settimana scorsa finotto ok non sarà il giocatore che che scalda il cuore non sarà il giocatore che che tutti si aspettavano il bomber no la punta la mantia se ne fa di noi un po diversi però a me l'arrivo di finotto non dispiace soprattutto se questo è un dato di fatto a chiederlo non è stato uno qualunque ma stato venturato che l'ha avuto e lo apprezza ciao polli intanto la tua grotta del doro sei felice per il ritorno di finotto certo che sono felice per il ritorno di finotto penso che il pubblico femminile in generale ne sia sempre felice era era uno dei favoriti del pubblico femminile non sapevo di questa cosa io conosco vari rappresentanti dei sostenitrici sapevo di mora sapevo di castagnetti sapevo di antenucci che insomma in quella squadra vabbè però dai finotto sempre avuto il fascino del giovane del giovane era effettivamente piuttosto giovane alla prima esperienza della spalla adesso torna che ne ha 29 ma all'epoca se ne aveva 23 24 quindi ci sta 91 forse c'è 30 no sì ne ave no credo sia 92 polli si deve essere 92 e compie 30 quest'anno però sembra sempre la faccia da da ragazzino finotto fan club scrive l'era fregnane vedi sono dei riscontri sono entrata così a gamba tesa eccomi allora leo ci diceva che lui trova sensato il ritorno di finotto e anche se l'opinione pubblica sia un po divisa insomma chi c'è chi vede nel nel ritorno di finotto una specie di ripiego di operazione di secondo livello diciamo così rispetto a quelle che la spalla avrebbe dovuto fare soprattutto in attacco un po un'operazione simile cerri no 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 però diciamo che dopo assenso dell'anno scorso dopo il fatto che la spalla negli ultimi anni non sia mai riuscita a prendere quella punta no io ora abbiamo anche inciso un disco da esatto guolla punta diciamo che questa punta che noi ormai millantiamo da un bel po di tempo fa fatica ad essere presa no sembra che la spalla faccia un po fatica a trovare questo giocatore che ormai è invocato un po da tutti però finotto potrebbe essere un giocatore di non quella caratura ma funzionale a quello che vuole venturato che alla fine poi è quello che conta sì intanto saluto un po di gente alessandro matteo davide stefano che c'è come sulla cordina della tazza per mascherare il brulè no stefano è verde detainato pensa quanto quanto sono delicatino e il brulè non no non ne lo faccio in casa ecco la prossima settimana mi presento col calice perché abbiamo un ospite di altissima caratura quindi mi presenterò col calice e allora no leo dicevo su finotto mi mi aggancio mi aggancio al commento di luca anthony dice l'esimo giocatore che arriva dopo un infortuno speriamo non sia un nuovo tuminello negli ultimi due anni da sano 8 di cigola campionato è il giocatore che serve io scomporrei questo commento 8 di cigola campionato se li fa nel giro di ritorno io ci metto non la firma di più ricordiamo sergio floccari quando arrivò quell'anno fece esattamente quegli 8 9 gol nel giro di ritorno e la spalla ebbe una spinta propulsiva notevole dal suo innesto non è quel tipo di situazione però comunque se facesse quel tipo di fatturato credo che tutti ci metterebbero la firma l'analogia con tuminello è solo parziale perché tuminello si è lesionato il ginocchio due volte consecutive nel giro di meno di due anni e nel caso di finotto è vero che viene da una rottura del crociato però è anche vero che ha già ricominciato a giocare perché comunque ha fatto 45 minuti con la primavera del monza ha fatto un paio di spezzoni a dicembre e le visite mediche sono state fatte oggi e mi figuro che insomma siano state fatte in maniera piuttosto accurata è vero che anche tuminello passò le visite mediche quindi questo non vuol dire granché però insomma qui c'è anche una componente no ma qui c'è anche una componente di motivazioni secondo me che non va trascurata finotto torna alla spalla ci torna super volentieri aveva lasciato alla luce del fatto che la spalla era salita in serie a e lui probabilmente su quel livello non all'epoca non ci poteva stare ma ha dimostrato di essere un giocatore comunque piuttosto affidabile e poi c'è quello che dice leo cioè che venturato ha dato l'ok a questa a costo con questa operazione e viene anche il sospetto che finotto l'abbia proprio chiesto cioè che sia andato da zamo una tanti abbia detto non mi serve un lasagnone da davanti prendetemi finotto che uno è l'attaccante dinamico che probabilmente mi fa comodo adesso due sa fare anche il centroavanti perché oggi stavo compilando una piccola come dire compilation scusate gioco di giocate di finotto col cittadella e che dimostra che il giocatore sa fare anche il numero 9 in certe circostanze di gioco e poi soprattutto è un giocatore che sa perfettamente come gioca avventurato e quindi questo è un fisico che glielo permette glielo permette di finotto era che lo sostenga dopo questo infortunio ma infatti l'unica grossa incognita qui in questa storia non è tanto il valore di mattia finotto o le motivazioni ma la sua capacità di essere in buone condizioni in tempi brevi questa è l'unica l'unica incognita però aggiungo una roba arriva in un reparto in cui comunque i giocatori non mancano perché a quanto pare la telat nello spazio di 10 15 giorni dovrebbe essere in grado di tornare a pieno regime nel senso di giocare 90 minuti questa questa è la speranza che tutti hanno in via di farlo quindi insomma poi orla lì dipende cosa quali sono i piani di venturato davanti perché se è vero che venturato preferisce dei giocatori di movimento magari giocatori un po più rapidi cosa che in questa spalla va bene c'era la telat c'è sec che probabilmente si spera intanto che venturato abbia la possibilità di rilanciarlo perché comunque con clotetti si era un po perso per strada venturato si predilige questo tipo di giocatori allora finotto è un giocatore che può far comodo nell'idea di gioco di venturato anche perché giocatori statici già ce ne potrebbero essere anche se colombo tutto si può dire tranne che sia statico visto che va a fare i ripiegamenti a 40 metri dalla porta però melchiorri anche per questione grafiche un po più statico quindi con la possibilità di avere alle spalle mancoso e rossi in qualora trovasse la condizione secondo me finotto potrebbe andare a completare le caratteristiche che un po mancavano nel barco attaccanti ecco sì sì sono d'accordo ma approfondirei ulteriormente l'argomento cioè che se la spalla prende finotto tra i tanti attaccanti che si potevano prendere in questo mercato di gennaio cioè ovviamente escludendo quelli di primissima fascia dopo su questo argomento faremo anche un piccolo approfondimento e se l'ha fatto è fatto l'ha fatto perché venturato evidentemente deve aver dato un input di quel tipo aggiungo una cosa per approfondire questo discorso che stavamo facendo se uno va a guardare la storia del cittadella dei cinque anni precedenti a questo perché sono gli anni in cui c'è stato venturato si può vedere come l'impostazione di venturato sia sempre stata bene o male quella anche per caratteristiche nel senso un trequartista di grande tecnica di grande visione di gioco all'inizio fu chiaretti poi è arrivato schenetti poi ci fu c'è ancora tra l'altro d'urso insomma giocatori con quelle caratteristiche di dietro a due punte una un pochino più strutturata fisicamente nell'ordine ci sono stati litteri strizzolo scappini zelar e un sei e fino all'anno scorso e poi una punta più mobile che attacca la profondità affermo restando che anche il numero nove classico nel gioco di venturato deve sapere attaccare la profondità e guarda caso colombo è uno che la profondità sa attaccare perché è veloce e potente ama puntare la porta anche da lontano finotto è la stessa roba solo che finotto ama molto anche allargarsi per fornire degli assist per inserirsi dalle fasce laterali o a centrarsi andare al tiro quindi ci sono state poche eccezioni a questo tipo di impostazione nel calcio di venturato una di queste è stata rappresentata la più famosa probabilmente da moncini che in quello spezzone di stagione 18 19 in cui il cittadella tra l'altro arrivò in finale playoff faceva un po' la punta statica in area infatti mi ricordo che facciamo un'analisi dei suoi 15 quali cittadella di cui tipo 11 segnati nell'area piccola qualcosa vorrà dire e finotto era il giocatore che gli girava attorno e c'era molta complementarietà però è anche vero che nel cittadella di venturato si sono viste spesso soluzioni con un 9 più veloce più mobile come è stato dio prima che la sua carriera prendesse una strada decisamente balorda e insieme a una seconda punta è in grado di muoversi su tutto il fronte d'attacco come sono stati il piero zafio quindi e poi orla in questi termini poi prima di passare alle notizie di mercato affrontivo il punto visto che vedo che lo chiediamo anche qualche commento dai esatto io volevo prendere il commento principalmente di buzzo che diceva e poi le seri perché effettivamente finotto oltre che evocarci no dei bei ricordi perché comunque si lega alla promozione quindi si lega esatto estremamente positivo per la spalla poi è un giocatore una persona seria insomma che sicuramente male non fa e poi nella foto di presentazione della spalla oggi che sto guardando qui davanti finalmente ride cioè abbiamo anche noi un giocatore di presentazione anche zamuner io vorrei fare un collage tutte le foto di presentazione di giocatori degli ultimi due anni io credo non ci sia una 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 foto in cui zamuner sorride c'è sempre questa espressione un po non so come definirla un po perplessa non non so cioè allora che a zamuner c'è un sorriso e va detto perché il muso di nelle foto era stato inaugurato da mattioli nelle foto quindi sono contento che zamuner abbia ripreso a sorridere nelle foto in questo vabbè allora un esempio di servizio fotografico venuto non proprio benissimo è quello di me cariello mi sento di dire perché le espressioni sono tutte un po diciamo così strambe comunque zamuner secondo me è una persona che non ama aprire le fotografie per quanto insomma sia un bell'uomo e per quanto abbia alle spalle un passato da grandissimo conquistatore in campo sentimentale ma evidentemente non ama e quindi fa queste espressioni che non sono sempre proprio di giubilo no sembra ma sì grazie che sei qua e invece sì finotto ride ma perché ha tutti i motivi per ridere insomma è tornato è tornato dove è stato meglio mi sento di dire perché non immagino sia stato bene anche altrove però qui qui si è fatto conoscere in maniera totale diciamo così adesso che abbiamo toccato quota 100 come direbbero possiamo leggere un po di commenti infatti stavo per dire interromperò la vostro monologo vi chiedo scusa ma non sono più abituata a sentire parlare due persone contemporaneamente gestire la conversazione sta diventando un po complesso vai polli inserisci inizio subito con una domanda da parte di tommaso che ci chiede notizie su proia e chiede se si sa qualcosa proia o proia no proia a me risulta che sia praticamente tutto apparecchiato non saprei indicare dei tempi precisi sarei sorpreso se venisse ufficializzato domani o venerdì però quei tempi del mercato sapete non si può mai dire insomma fino a tre giorni fa la cosa di finotto sembrava una cosa buttata lì e poi mezza giornata hanno fatto tutto contratti compresi quindi mi risulta che la trattativa sia impostata molto ben avviata e che il giocatore abbia espresso una netta preferenza per la spalla e poi sapete anche voi che quando si parla di mercato può succedere veramente di tutto perché se vicenza non so il ds di vicenza che è balzaretti domattina ci sveglia e dice no non te lo do cosa si fa quindi mi pare di aver colto una certa fiducia negli ambienti via copparo sul fatto che questa trattativa vada a buon fine quindi se dovesse arrivare proia e arriverebbe in prestito con diritto di riscatto con la spalla che si accollerebbe un ingaggio non indifferente tra l'altro del giocatore sarebbe un bel colpo insomma perché vorrebbe dire aver messo sotto contratto tre giocatori nei primi 15 giorni e per una piazza che in parte invocava rinforzi immediati mi sembra un bel risultato sono d'accordo con te vedo leo che si annota cose ci vuoi rivelare un'annotazione finale su finotto dopo dopo sull'argomento che c'è dopo avete notato qualcosa sul numero di maglia scelto da finotto no non ci ho fatto caso ha scelto il 18 al primo al primo che che anche dei nostri commentatori ovviamente al primo che mi dice chi è stato l'ultimo proprietario della maglia 18 magari mandiamo una borsina degli adesivi e promesso promesso e vediamo a questo punto non interromperemo il gioco e lasciamo l'onore comunque dopo alla fine dovremo riprendere il nostro giochino stupido dei pronostici perché domenica c'è una partita fino a prova contraria ecco il primo che arriva è eros eccolo qua tomas ligorio tomas ligorio dice eros eros schiavone ultimo proprietario della maglia numero 18 infatti oggi oggi ho scritto a eros e ho mandato un messaggino e ho detto guarda che finotto ha preso la 18 fagli presente che va tenuto da conto mi ha scritto con un sacco di faccine che ridono e mi ha detto appena lo vedo lo faccio quindi grande grande eros e allora vedo che arrivano commedi c'è delle domande allora c'è luca pocaterra che chiede qualcosa riguardo mancoso il resto va e se va va per sua volontà allora allora a me risulta che non vada da nessuna parte nel senso che vedo anch'io questi articoli più o meno come dire no sto per dire più o meno attendibili ma non c'è niente attendibili nel senso cioè rilanciati continuamente ecco questo volevo dire su una cosa c'è una certa insistenza effettivamente però non allora a me non risulta che ci siano trattative in corso non mi risulta che che mancoso abbia chiesto di andare non mi risulta che la spalla abbia intenzione di separarsi da mancoso tutt'altro anzi tra l'altro venturato è ben lieto di lavorare con un giocatore come mancoso visto che può finalmente metterlo a fare il trequartista vecchia maniera insomma dietro le punte quindi al momento non ci sono non ci sono indizi che lasciano pensare che mancoso possa andare via la spalla e poi è chiaro questo è un principio che vale praticamente per tutti i giocatori della rosa della rosa senza alcune eccezioni se arriva e ti dice ti do 5 milioni per mancoso glielo dai ma ma non è questo il caso anche questa cosa dello scambio con la dinetti non ho riscontri in merito anche perché che senso avrebbe per la spalla le via mancoso per prendere un giocatore come la dinetti che uno non ha giocato un singolo minuto di stagione due era rimasto fermo per problemi di natura cardiaca che si spera abbia risolto tre cosa se ne fa di un giocatore che in linea di massima ha giocato davanti alla difesa e quella è una posizione in cui ce ne sono già due allora poi nel frattempo abbiamo riccardo che ci lancia la nuova nuovo trend ovvero il ma porca proia nel caso dovesse arrivare vediamo poi abbiamo già un paio di commentatori che chiedono notizie riguardo un portiere un innesto in porta questa è la al portiere esatto ma anche Massimo dice siamo passati da bolla punta è uguale al portiere Massimo stesso lo riprendo perché ha scritto prima Vicenza e Cosenza si crotone si stanno rinforzando Leo prima della diretta discutevamo proprio di questo finora non mi pare che ci stiano rapportando granché perché anche 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 il Vicenza ok ha preso il fratello di Lukaku non so se i nostri spettatori hanno visto la foto della presentazione di Lukaku ma probabilmente peso meno io eh in questo momento ma sì poi di affari con i fratelli ne abbiamo fatti anche noi mi sembra che non abbiano ma no diciamo che anche prima mi stavo andando un'occhiata alla lista dei dei trasferimenti ufficializzati della Lega Serie B su 13 trasferimenti due sono della Spal poi abbiamo il Pordenone il Parma e l'Ascoli ha fatto un paio il Parma l'ha fatto l'Ascoli sì esatto ma anche Cosenza ne ha fatto uno ma insomma sono tutte robe di poco conto insomma non mi sembra che le dirette concorrenti per la salvezza eh siano siano così attive sul mercato cioè a me sembra che la Spal è una delle più attive esatto la Spal si sta muovendo celermente e via così ehm intanto scusa prima di andare sul portiere che è un tema che 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 fa molta presa vedo gente che scrive ma Petriccione ma di Petriccione cosa ce ne facciamo scusate ragazzi eh ma eh chi l'ha detto che la Spal prende Petriccione perché cioè qua sembra che eh viene fuori una roba sul blog di Di Marzio e e sia la verità per quanto Di Marzio tra tutti i giornalisti sportivi di calcio mercato sia quello che 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 ci prende un po' più degli altri mh non è la sacra bibbia cioè mh più che ci prende diciamo che potrebbe essere quello che alle informazioni ha leggiati non sono quello che vogliamo però ho scoperto di Clotet scoperto io oggi oggi non ho oggi non ho fatto verifiche perché sono stati impegnati in altre cose però fino a ieri sera a quest'ora qua mh mi risultava che Petriccione fosse stato offerto però anche lì mh cioè dobbiamo sempre ragionare per con la logica sulla base dei fatti che conosciamo e allora se Venturato gioca con il 4 3-1-2 e dei 3 uno fa il mediano basso davanti alla difesa quel posto è occupato inevitabilmente o da Esposito o da Viviani Petriccione ricopre esattamente quel ruolo lì quindi anche oggi mi è capitato di leggere qualcuno che ha scritto no ma perché pendono Petriccione perché va via Mancoso ma non c'entra niente come dire prendo un chilo di mele e uno di banane cioè fanno due mestieri diversi questi due giocatori quindi e questo non lo voglio dire con presunzione però è così tra l'altro Viviani e Esposito che sono due dei giocatori che potrebbero avere in ottica calcio dal mercato estivo la possibilità di essere venduti e quindi ottenere una monetizzazione perché la Spalle al di là di questi non è che abbia tantissimo altro da vendere qualora volesse vendere insomma e loro sicuramente potrebbero con un'altra metà stagione di livello soprattutto Viviani che ha un ingaggio molto pesante esatto sì il discorso di Viviani è questo cioè che la Spalle è ben dieta di aver recuperato questo giocatore Viviani da giugno avrà un anno di contratto a cifre che non sono da serie B oggettivamente è così ha un contratto da serie A e quindi se la Spalle dovesse ricevere delle offerte ci farebbe anche un pensiero insomma non è un mistero fino all'anno scorso se ne sarebbe liberata a qualunque condizione adesso ovviamente il giocatore si è un po' rivalutato e quindi per fortuna la Spalle riesce ad avere anche un po' di potere contrattuale in eventuali richieste sull'esposito la situazione mi sembra più complessa perché il giocatore ha un altro anno più uno di opzione quindi potenzialmente sono due bisogna capire che tipo di mercato si creerà attorno a lui perché la Spalle non è che abbia la fretta di dar via a Spalle vorrebbe provare a valorizzarlo vorrebbe provare a renderlo un giocatore da serie A quello sì però mi viene da dire che se e questo è ovviamente un tema che andrà discusso più avanti se Giota Coppina e la Spalle allestiranno una squadra per il salto di categoria prossima non mi viene da pensare che Sposito possa farne parte insomma non vedo perché no però questo è un tema a lungo raggio che magari affronteremo quando sarà il momento andiamo sul portiere allora perché ci chiedono insomma anche Mattia dice di Martio parla di Brignoli sapete qualcosa su Brignoli voglio essere super onesto non so niente perché è una roba che è venuta fuori oggi non ho avuto il tempo materiale di mettermi lì e capire quello che voglio dire è che ovviamente Falcone non se ne parla più sembrava una roba fatta ma poi sono cambiate le condizioni sul portiere credo che la Spal voglia voglia aspettare perché era andata convintissima su Falcone con la con l'idea di prendere un giocatore affidabile in grado di di dare qualche tipo di garanzia se si guarda al mercato attuale non c'è un giocatore con quel tipo di caratteristiche o meglio con quel tipo di valore mettiamola così che possa far dire ok abbiamo sistemato una porta cioè se bisogna prendere tanto per prendere non credo che la Spal prenderà un portiere credo si voglia aspettare e capire i vari incastri come andranno a finire per esempio Sepe a Parma va via la Spal non credo prenderà Sepe però se Sepe va a Salerno si libera Belec se Belec va da un'altra parte si libera un altro portiere e via così si crea questo risultato domino e in questo domino se salta fuori la tesserina che ti fa comodo allora la vai a prendere Brignoli è una stazione diversa perché è in Grecia fa il secondo in Grecia al Panathinaikos comunque squadra importante se decidi di tornare in Italia sicuramente la Spal può dire beh ci pensiamo perché è un portiere comunque di buon livello tu Polli cosa ne pensi del portiere pensi che la Spal ne abbia bisogno si è dimostrato nell'ultima partita che di bisogno ce ne sia poi effettivamente se devi prendere qualcuno per prendere qualcuno non conviene ad ogni modo sarà poi come diceva Orla un incastro di occasioni se capita l'occasione di avere un portiere che ti possa garantire una migliore prestazione rispetto a quelli quelle vacillanti che abbiamo visto ultimamente fermo restando che a me Pomini non era dispiaciuto particolarmente diciamo Pomini è un giocatore comunque di esperienza però secondo me se si vuole mettere a posto ne parlavamo anche con con i nostri colleghi insomma che seguono il calciomercato del giornale se si vuole prendere un giocatore che è in grado di aumentare l'affidabilità del reparto allora serve qualcosa di diverso perché se bisogna prendere anche un Brignola che io riporto principalmente da chi l'ha seguito da vicino si dice che non sia un giocatore così Brignoli si scusa Brignoli che è stato anche la spalla così continuo quindi è un giocatore che tende a fare qualche sbarione di troppo anche alternando parate eccezionali quindi non so io ne parlavamo anche con Orla privatamente qualche giorno fa io sono un po' scettico diciamo così non voglio oggi esprimermi e dire cose che si possa potrebbero falleggiare il tercato però opinion maker poi c'è Buzzo che si dice che con una difesa sistemata anche il portiere gioca meglio poi il commento successivo è noi tre brocchi su tre però quello è un altro discorso dai non li chiamerei tre brocchi insomma sono tre portieri anche molto diversi tra i loro vediamo come verrà gestita la situazione portiere diciamo che la situazione portieri possiamo dirlo l'ha creata anche un po' pepclotet perché cioè di tre non ha mai scelto il titolare quello è vero quello è vero secondo me non è andata così il titolare era stato scelto ed era stato consacrato a Tiam poi se Tiam ha fatto delle prestazioni che non sono state ritenute adeguate è quello che dici su Tiam che si lo so ma io guarda che contro Tiam io non ho niente non ho niente contro Viviani contro nessun altro anche perché vai te a discutere con uno di due metri e due non siamo travatusti è vero che adesso è diventato papà non può mettersi nei guai quindi deve essere buono con tutti però vabbè comunque è quello che dobbiamo dire ossia che se Tiam ha fatto le prestazioni che non sono non hanno convinto Clotetti in primis ma neanche noi sinceramente e poi ha cominciato ad alternarli poi metti dentro uno fa anche questo delle cappelle Pomini dei tre sembrava a un certo punto quello più affidabile però anche lui era un portiere che non era arrivato per fare il titolare questa stagione quindi secondo me la gestione dei portieri io continuo a pensare che non sia stata formidabile né da una parte di Clotette come abbiamo detto ma secondo me neanche da la parte la parte tecnica infatti ci corregge anche Andrea che non abbiamo inteso bene quello che voleva dire infatti diceva appunto che per lui non sono tre brocchi ma siamo stati noi che non abbiamo un malinteso ok ok no no infatti ma ma credo che il ragionamento che si sta facendo adesso in via Copparo sia esattamente questo del tipo noi ci vogliamo salvare è fondamentale prendere un altro portiere per salvarsi la risposta è se ci alza il livello sì se non ce lo alza va bene lo stesso perché tra dei tre che abbiamo forse riusciamo a farcela perché una volta messa una pezza in difesa con Meccariello arriverà forse anche un terzino destro prendi un giocatore importante come Proia centrocampo prendi un giocatore davanti che ti ti può dare una mano come Finotto la squadra è stata sistemata insomma poi dopo è chiaro che l'addio con Clotet è stato dovuto anche a questa discrepanza tra le vedute della dirigenza e quelle dell'allenatore sul tema del mercato del numero di giocatori che sarebbero serviti per per farcela però insomma ma anche lì su Tiam qualora cioè allora Tiam sei stato scelto in maniera strategica come titolare questa stagione perché è stata una decisione fatta sulla base di quello che si è visto anche precedentemente allora tu devi anche accettare che un giocatore giovane possa sbagliare allora lo lasci lì lo fai giocare poi se si dà ascolto a quello che dice la stampa a quello che dice i tifosi allora non se ne esce più perché tutti noi quest'anno non avremmo mai voluto vedere i Viviani eppure Clotet l'ha rifatto diventare quindi se la società dice no guardate voi non capite niente noi siamo tecnici Scalabrelli l'ha visto l'ha allenato e se secondo loro è un giocatore che può diventare un asset per questa società e quindi farlo entrare l'etotolare ma ben venga ma che giochi cioè guardate secondo me è questo il punto però bisogna essere deciso quello che si fa non alla prima o alla seconda cappella toglierlo dal ruolo ma perché scusa Leo ci siamo incartati sul discorso portiere ma è un tema che ci sta un po' perseguitando da settimane settimane cioè il discorso è questo i sostenitori di Tiam che non sono così rumorosi diciamo sui social dicono però Tiam ha sbagliato tanto quanto hanno sbagliato altri portieri in questa categoria anche più quotati di lui e perché questi portieri non sono stati accantonati mentre Tiam è stato accantonato cioè è questo è questo un po' il suco il discorso in una situazione nella quale in estate le valutazioni sono state fatte e evidentemente come ci tu Leo Scalabrelli che non è un pirla visto che comunque ha allenato Meret Viviano insomma ha allenato dei portieri Beriscia stesso cioè ne sa di portieri è riconosciuto universalmente come un preparatore molto competente evidentemente si è fatta questa scelta anche sulla scorta di questo tipo di indicazione quindi Clotet ha una componente di colpa nell'aver bruciato Tiam cioè che a questo punto non mi sembra più proponibile come titolare perché al primo errore verrebbe fatto fuori non fatto fuori letteralmente ma insomma in senso figurato quindi secondo me Clotet ci è andato un po' duro ecco su questo su questo su questo poi lo stesso discorso vale anche per Sec cioè Sec era partito come se dovesse essere il giocatore da rivalutare esatto e poi a un certo punto si è anche lui un po' incartato Clotet ha cominciato a escluderlo cioè se Venturato lo rilancia noi siamo contenti cioè nel senso da quello che filtra da via Copparo pare che Venturato Sec piaccia molto quindi vediamo cosa si andrà a fare nel frattempo vi pongo una domanda da parte di Alessio che chiede chi sceglierà per voi Venturato come portiere dei tre ottima domanda non ne abbiamo la più pari di idea nel senso che la logica vorrebbe che si proseguisse con Pumini viste le prestazioni offerte finora ma con un nuovo allenatore cambiano le gerarchie Venturato è qui da ormai sette giorni direi e quindi avrà avuto il tempo di farsi una mezza idea domani alle 17 è prevista la conferenza stampa di presentazione di Venturato probabilmente il tema verrà fuori tra le tante domande che verranno fatte tra l'altro domani ci sarà anche Tacopina quindi anche lì si parlerà di un sacco di altre cose alcune delle quali le affronteremo tra poco avevo visto un paio di commenti che avevano attirato la mia menzione io ne ho trovato uno ora da parte di Riccardo che dice che Tiam è stato messo titolare solo perché non c'erano i soldi per prenderne un altro no io non sono d'accordo su questa cosa perché comunque la decisione di mettere Tiam titolare era una scelta strategica che mirava a rivalutarlo e farlo diventare un giocatore che da giovanili diciamo così poi poteva essere spendibile in prima squadra così come sec secondo me allora sicuramente se si avesse avuto la disponibilità economica di non so del Monza per fare un esempio ma anche del Parma forse la SPAL non farebbe questi ragionamenti o non ne farebbe in maniera così stretta però secondo me al di là della questione economica Tiam è stata una scelta strategica sono d'accordo è stata una scelta strategica dovuta al fatto che non c'erano i soldi nel senso una non esclude l'altra cioè il tema è questo se hai in casa un portiere è di tua proprietà è giovane e dici ha l'adeguato potenziale per fare il portiere in B tieni insieme tutte le cose che non ti costringono ad andare a prendere un altro portiere che magari ti costa tantissimo ci provi la SPAL ci ha provato le cose non sono andate proprio alla grande finora e quindi bisogna capire come proseguirà sta storia vedevo due commenti allora uno vabbè al di là di torna a brancaccio ma non credo era anche quello di Marco Contini arrivo arrivo ciao Marco leggo che Venturato preferrebbe avere a Ferrari Alfonso è possibile nel senso che Alfonso è un giocatore che Venturato ha avuto a Cittadella è stato un suo titolare a Cremona non sta trovando spazio la Cremona se ne disperrebbe volentieri però anche qui c'è un discorso portieri 33 anni che per la standard del ruolo non è non è anziano ma un Alfonso ti alza veramente il livello del reparto portieri non lo so non lo so quindi presumo che la SPAL voglia riflettere su questa cosa cioè che si arriva al 20 gennaio dice vabbè se dobbiamo prendere un portiere che ci dà un 10% di affidabilità in più rispetto a quelle che abbiamo ok prendiamo Alfonso se no insomma c'è la volontà magari di andare su un obiettivo un pochino più significativo ecco da questo punto di vista allora e poi qualcuno aveva scritto arriva Moncini no non arriva Moncini perché uno il Benevento in questo momento è un po' ai minimi termini con l'attacco col fatto che la Padula non è stato neanche convocato per la partita di domani recupero col Monza è vero che stanno prendendo Farias è vero che potrebbero prendere anche Forte però non mi risulta che la SPAL voglia aggiungere attaccanti quindi non credo arriverà Moncini e penso che vada bene così Marcello Bulgarelli infatti te lo stavo proprio per chiedere Marcello Bulgarelli fa una domanda proprio a te lo sai che cosa succede ora che è tornato finotto vero? eh sì lo so vogliate coinvolgerci Marcello me lo chiede perché proprio oggi discutevamo del fatto che SPAL MEMES aveva fatto una promessa in caso di ritorno di finotto per chi non sa di cosa si tratta vada a vedere la pagina in SPAL MEMES Marisa Lente a tempi di futuro e quindi insomma andate lì e vede infatti Gabri Carpente lo scrive anche ora al Tosano adesso chi non c'è presente la questione adesso può sguazzarci e chi non c'è presente vada a vedere su SPAL MEMES e verrai tutto immediatamente aggiunge il carico a questa briscola e è bellissimo avere un pubblico così e allora allora vedo che il tema portieri comunque scalda il cuore piuttosto sentito Proi arriva dice Yuri sì credo di sì almeno di cose particolari anche Elena ammette sì vedo che il topic di quello che succederà è stato i nostri i nostri lettori sono stati più attenti sapete chi più commenti sulla sapete chi probabilmente è proprietario di un elicottero Pat Carroll è certo è lui il nostro mito l'uomo l'uomo di successo che tutti vorrebbero essere compreso da Polly Pat Carroll Pat Carroll allora mi pare che nell'ultima settimana non abbia fatto delle sbocciate clamorose sui social nel caso penso di essermi le perse ma ho visto dei gran allenamenti in palestra insomma roba così un po' di restrizioni ci saranno anche là voglio dire non mi pare sinceramente a Piano del Gratacielo di New York secondo me le restrizioni Polly non ci sono Luca Pocatari su Sky hanno già concluso gli acquisti di Farias è forte sì è vero Farias praticamente sì è forte direi che è questione di dettagli però anche lì Benevento lotta per la Serie A ha una proprietà molto 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 facoltosa si separerà dalla Padula quindi quando vai via la Padula che è un giocatore di sicuro rendimento in Serie B e una squadra vuole salire deve prendere un attaccante forte e quindi prende forte esatto dobbiamo parlare di tante altre cose oltre che del mercato siamo un po' indietro con la scaletta infatti no tiravo in causa Pat Carroll non per deriderlo anche perché non c'è motivo di deriderlo è uno che ha capito tutto dalla vita perché la settimana scorsa qualcuno ci aveva chiesto di questa storia del cosiddetto closing del passaggio di quote definitivo tra la famiglia Colombarini e gli americani la settimana ho voluto approfondire l'argomento non è uscito niente sullo spallino se non sulla newsletter dello spallino che oggettivamente conta in questo momento 400 iscritti non sono tantissimi però 401 perché io mi sono iscritta oggi molto bene poi io devo ammettere che non mi sono mai iscritto alla newsletter mi piace il vendalismo lo apprezzo molto però devo ammettere la newsletter avresti letto il contenuto che abbiamo elaborato sul tema newsletter sul tema passaggio di quote perché in settimana ho avuto modo di indagare un po' sull'argomento uscirà qualcosa anche sullo spallino a breve perché domani vorrei fare una domanda a Tacopina su questo argomento per completare tutto tutto quanto però tutte le voci che circolano su questa cosa del passaggio definitivo che sarebbe in discussione ricordiamo Tacopina al 49% della SPAL in questo momento 51% ancora dalla famiglia Colombarini ma nell'accordo stipulato tra luglio e agosto è stato stabilito che tutti gli oneri di gestione dal primo luglio in poi sono a carico di Tacopina quindi anche se Colombarini è rimasto dentro nel consiglio di amministrazione in attesa mi figuro di chiudere il bilancio 2021 perché il bilancio della SPAL è su base annuale sull'anno solare perché è un consolidato fatto con la vetroresina che era la società controllante quindi è un passaggio formale in questa settimana ho avuto modo di parlare con persone coinvolti in questa vicenda tutti mi hanno detto la stessa cosa uno che sì no mi hanno detto non c'è motivo di dubitare che questo passaggio di quote avverrà non c'è da farsi prendere dall'ansia perché il termine non è il 31 gennaio ma è la fine del mese di febbraio quindi questo significa che c'è più di un mese e mezzo per chiudere questa storia ovviamente più si arriverà ridosso di questa data più alzeremo l'attenzione su questo tema ma allo stato attuale non sembrano esserci indicazioni che possano far pensare a qualche problema sia da un lato del tavolo sia dall'altro lato del tavolo quindi se non sono preoccupati cioè se fosse preoccupato uno dei due direi eh c'è qualcosa che traggia ma se entrambe le parti sono tranquille in questo momento non hanno avuto la minima indicazione di problemi entrambe le parti orla e mi viene da dire soprattutto chi vende è tranquillo oltre che chi compra io ho avuto questa sensazione ho avuto questa sensazione quindi mi figuro che non sia in dubbio questa cosa certo però ogni due per tre mi arriva messaggi di gente vocali di gente guardate che tornano i colombarini e cioè adesso qui la sparo forte ma i colombarini piuttosto vanno a buttarsi nel volano piuttosto di riprendere in mano la spalla e di metterci dentro dei soldi perché la ragione per la quale l'hanno venduta è proprio perché se non hanno rotti le valle di andare fuori con i loro fondi cioè ma questo era stato ampiamente detto esatto non è mai stato un mistero di questa cosa esatto senti orla ma sì leggendo la newsletter dello Spandivo che tra l'altro consiglio a tutti veramente di iscriversi perché io mi sono in iscrizione perché mi ha convinta è molto interessante effettivamente anzi orla metti il link se c'è un link diretto per iscriversi tra i commenti ecco lo farò subito ecco così vediamo domani in quanti hanno accolto il nostro suggerimento perché effettivamente è molto interessante io ultimamente ho percepito molte più critiche a Tacopina che non nel nel recente nel recente passato questo è anche normale insomma la luna di miele probabilmente io cioè non le capisco devo essere sincero il calcio mercato non è chiuso non non sono passati il i termini per per fare il closing comunque il passaggio dal 49 al 51% di quote quindi io sinceramente viene qui una persona che niente non ti doveva niente ok viene qui ti prende la società te la rileva da un ambiente che da due anni era depresso dal punto di vista del morale e anche dei risultati di conseguenza viene qui ti caccia i soldi per comprarla ti tira fuori i soldi per mettere a posto lo stadio perché anche quella stiamo parlando di quasi 700.000 euro che nessuno aveva messo in conto ma che comunque sono stati sborsati poi che verranno recuperati in un altro discorso sta facendo un mercato tutto sommato dignitoso perché comunque abbiamo visto prima e l'abbiamo detto fino ad adesso che due dei 13 movimenti già ufficializzati in bistro della spalla e ce ne sono altri in cantiere Proia è un giocatore importante io sinceramente non capisco cosa ci sia da bambanare o cosa ci sia da questo era il verbo che aspettavo esatto io sì perché dopo un po' la catena mi scende io veramente non capisco cioè non capisco spiegatemi perché Leo Polli sapete quante iscrizioni alla newsletter ci sono state negli ultimi 5 minuti vai zero no otto vai vedi otto nel frattempo ci tengo anche a rispondere a Buzzo che chiede cos'è la newsletter quindi Arla se te lo vuoi spiegare la newsletter è un appuntamento che abbiamo inaugurato da quest'anno da settembre quando siamo rientrati online grazie all'intervento della mai troppo pubblicizzata azienda che ha rilevato lo spallino che è dinamica media e praticamente è una mail che arriva una volta al mese in genere o l'otto o il nove o eccezionalmente il dieci in cui vengono proposti dei contenuti alcuni di questi li avete già letti sullo spallino e vengono arricchiti di ulteriori commenti e analisi e poi ogni volta ogni mese c'è un contenuto esclusivo solo per chi è scritto la newsletter il contenuto esclusivo di questa settimana che però di questo mese scusate è non solo questa analisi sul closing diciamo così questa piccola analisi sul closing ma anche un interessante articolo firmato da Daniele Prock che tra l'altro ci tengo a salutare che è un giocatore di calcio gioca in serie D ma è anche un giornalista e scrive su Forbes la famosa rivista economico-finanziaria statunitense perché Daniele ha frequentato l'università di Duke in Carolina credo sia in North Carolina sì ed è e ha giocato negli Stati Uniti quindi conosce il mondo dello sport americano conosce la società americana e ha avuto modo in più occasioni di parlare con Giottacopina e in questo caso ha realizzato una piccola intervista a Giottacopina in cui si ribadisce un aspetto che dovremo poi affrontare più avanti quando farà caldo che la SPAL farà il ritiro estivo negli States negli States è una roba veramente grossa allora mi ricollego a quello che stavamo dicendo precedentemente ovvero l'intervento di Leo dove ha ottenuto abbastanza un riscontro positivo nel senso che Rudy ci dice che il pubblico ferrarese è così Federico commenta sono mai contenti che non sanno nemmeno loro che cosa vogliono però c'è un commento che ha portato la mia incuriosita da parte di Gianni Lunghi ovvero un po' pazzerella la polli incuriosita scusate questo è un nostro intervento interno preferirei non approfondire questo comunque Gianni Lunghi riferendosi a te Alessandro dice sempre scusate che il buon trap dice la polli va ragazzi ma così la polli la polli la polli l'ha uccisa va bene basta ripeto dire gatto quando non è nel sacco e questo vale per la parte economica tecnica eccetera personalmente sono molto molto preoccupato per le sorti future della spalla è una preoccupazione legittima Gianni però noi tendiamo a provare ad analizzare il contesto giudicare i fatti al momento indicazioni sul fatto che Tacopina sia venuto qua per fare delle figuracce non ne abbiamo poi poi vedremo insomma giudicheremo sempre in base a quello che vediamo in questa fase non ce la sentiamo di dare un giudizio negativo né di prefigurare un futuro di stenti che poi attenzione perché Tacopina ha alle spalle dei successi nel calcio italiano grazie anche a delle cordate che è riuscito a costruire abilmente insomma ma non è garanzia di successo nel senso che può anche succedere che la squadra sia di Tacopina per i prossimi cinque anni ci tocchino cinque campionati di B chiusi al decimo posto perché nella garanzia di vincere non ce la dà nessuno quindi scusate c'è Alessio Taddia che chiede se sappiamo se il ciclo di coordinamento fa il pulpo per il ritiro degli state questo è il commento del secco Alessio io ti inviterei però ti inviterei a questo punto a non sottovalutare Valentina Ferrozi è la sua macchina organizzativa perché guarda che se si mettono in testa di fare il charter per andare a seguire la Spagna e gli Stati Uniti lo faranno quindi attenzione che qua adesso li diamo e schertiamo ma se tra quattro mesi abbiamo la certezza che la Spagna sarà nello stato di New York nel New Jersey dove sarà a fare ritiro estivo Leo sta crollando va bene Alessio ha fatto crollare la diretta con questo commento ha rotto la diretta dello Spagna no ma scusate ma io sono curioso perché guardate che ok va bene andare fino a Tarvisio o a Vallès tutto sommato è facile però io non mi stupirei che qualcuno decida di comprare il biglietto aereo e di fare una settimana ai Stati Uniti per seguire la Spagna ma non lo trovo improbabile la cosa che mi faceva ridere alla ferrasti con l'ombrellino della spalla che scendono scendono dall'aereo e tirano fuori il salame subito e cominciano a tagliarlo come si faceva quando si trovera io se lo fanno è un mondo bellissimo io se lo fanno ci vado anch'io allora aereo di Pat e si vola dice Edoardo Selleri hai ragione infatti Pat Carroll è anche proprietario di un aereo quindi non sarebbe male allora vorrei un posto davanti perché io viaggio io sto vicino ad Alessio Tacopina fa l'aeroporto in via Bologna ormai sta diretta è diventata comunque scusa torniamo seri Alan dice a oggi Tacopina in Italia ha sempre mantenuto le promesse salvo nel caso della Roma beh non è vero però perché ha portato Thomas di Benedetto poi è arrivato Pallotto ma che non è dispeso da lui poi appunto dipende sempre dai contesti però cazzo ci stiamo lamentando il fatto che siamo Salvin B Amparazzugna Alan sottoscrivo praticamente tutto quello che hai scritto io credo che le aspettative dico le nostre aspettative intesi come globalità dei tifosi dipendano anche dal fatto che siamo ancora parzialmente scottati da come è finita l'esperienza in Serie A e tutti speriamo di vivere abbastanza per rivedere la spalla in Serie A e riteniamo che ci debba tornare più o meno alla svelta però non è così facile perché dalla retrocessione a oggi sono successe un sacco di cose e insomma bisogna avere un po' di pazienza gli americani direbbero trust the process abbiate fiducia nel processo quindi quest'anno è stato detto in tutte le salse bisogna tribolare salvarsi e sistemare il bilancio quando il bilancio sarà a posto presumo da luglio allora si potrà ragionare su cose diverse però per il momento bisogna cercare di tenere le aspettative sotto controllo e fare in modo che arrivi giugno nella maniera più serena possibile io intanto mi sono appena iscritto alla newsletter dello spallino a quanti iscritti siamo arrivati negli ultimi adesso sto tenendo d'occhio guarda qua fioccano 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 siamo altri 15 quindi facendo promozione facendo promozione stiamo raggiungendo risultati notevoli è vero anche che questo scusate è arrivato un altro commento negli States negli States andiamo con l'elicottero di Filotto che decolla dal Tosano ovviamente qualcuno suggeriva la pista del mercatone 1 ah beh bene non so come dire ma sono le 10 di mercoledì tra un po' stacchiamo tra un po' stacchiamo no Simone ci faccia notare dai che mi iscrivo fate pubblicità dai raga vi serve un commerciale no Simone un commerciale per fortuna ce l'abbiamo perché adesso abbiamo anche un editore che si preoccupa di noi di cercare di sponsor e tutto il resto siamo un po' brocchi nel come dire nel promuovere queste cose nuove che facciamo perché diamo per scontato che tutti ci seguono tutti siano molto attenti quando in realtà dovremmo periodicamente fare dei promemoria fare dei post su Facebook su Instagram e cose varie però a volte ce ne dimentichiamo perché siamo un po' pazzerelli e Spalli in the USA dice Mirko Battilana presumo la vedremo Taccopina l'ha già dita due o tre volte sta cosa l'ha ribadita la scorsa settimana nell'intervista a Daniele Proc quindi speriamo speriamo di vedere cioè sarebbe una roba da un lato secondo me che rompe una consuetudine una tradizione alla quale molti tifosi sono affezionati perché andare in ritiro andare in albergo magari vedere la partitella con la selezione locale è una cosa che si fa ancora l'altra cosa però vedere i nostri giocatori i nostri allenatori lo staff i dirigenti nei Stati Uniti ragazzi non ce la fate proprio dove mettiamo la birra per il viaggio penso che abbondino di birra va bene va bene quindi ragazzi scusate stiamo riendo perché ci stiamo scambiando dei messaggi nella nostra channel è che io guardo la faccia di Leo cioè ah ok l'ho visto adesso il messaggio va bene ma però non possiamo fare così lasciando all'oscuro ma sai che figata alla spalla di Yusa Maguang Sovrani allora Sovrani se qualcuno ricorderà abbiamo fatto una memorabile diretta l'anno scorso per celebrare il fatto che Alessandro Sovrani è stato l'unico giornalista di Ferrara ad andare a Crotone per la partita di Coppa Italia che non veniva trasmessa in tv e quindi tutti quanti l'abbiamo seguita trepidanti con la sua radiocronica se conosco un po' Sandro farei modo di organizzarsi perché è un'occasione troppo clamorosa anche per per lui non so se ci andrà a fare una vacanza con la signora Carla ma verificheremo Leo perché insomma Sandro in questi casi qua coniuga sempre l'aspetto diciamo così turistico a quello lavorativo e ha anche ragione a farlo sta studiando per la telecronaca in America dovrebbe trovare il modo di documentare se la SPAL dovesse veramente andare negli Stati Uniti perché ma sai che io ne parlavo ne parlavo l'altro giorno con una persona che mi chiedeva ma questa estate è in programma dei viaggi e gli ho detto guarda tra il serio e il poco serio mi risulta che la SPAL vada a fare ritiro estivo negli Stati Uniti potrebbe essere la volta buona che vado a visitare gli Stati Uniti dove non sono mai stato e approfitto per andare a trovare un mio amico che vive a Toronto che è in Canada ma è a confine con gli Stati Uniti quindi sarebbe il colpo del secolo esatto rispondo a Marcello Menghini che dice il terzino destro arriva ne abbiamo parlato prima poi di riguardarci dopo quando saremmo indifferita forse sì la SPAL sta valutando alcuni profili e se arriva l'occasione giusta probabilmente ci sarà anche il terzino destro e chiudiamo chiudiamo con una cosa che mancava da tempo ed è il nostro stupido giochino dei pronostici non ho visto commenti di Sara Guidorsi stasera è vero secondo me qualcosa ho scritto credo perché poi non è che gli occhiali quindi leggo quello che sei orgo così vabbè ok chi saranno i vostri protagonisti di Scorbio in Evento sì dimmi aspetta un attimo come siamo messi i punteggi i punteggi sono io a 4 tu a 1 e le a 1 e le a 1 ancora non me lo spiego io sarei a 1 perché ha beccato Melchiorri che ha fatto con la Crotone ma non gli avevamo tolto un punto perché aveva detto portiere migliore in campo sì prima di Frosinone Spalla aveva detto portiere migliore in campo e ha preso 4 io tornerei a 0 no no ma che regole sono dai va bene va bene niente deportazioni se non per casi gravissimi ma questo non lo è esatto allora io dico Viviani positivo così positivo nel senso che attento che non gioca perché si prende potremmo fare trovo al positivo no Viviani come giocatore determinante in questa fase determinante ok a me non lo chiedere neanche è sempre Colombo ma perché ma non cambia mai non cambia mai perché l'unica volta che l'ho cambiato l'hai preso tu quindi cosa vuol dire mi sembra una strategia perdente comunque ha scelto per la legge dei grandi numeri prima o poi farà qualcosa di favorevole anche con me ok io dico Dariva perché le mezze ali con con conventurato sono mezzali da battaglia e secondo me Dariva ci farà vedere qualcosa di importante poi come minimo non giocherà neanche però vabbè vediamo ok no comunque va bene va bene nonostante ci sia la supercoppa nonostante non ci sia l'esonero di ottimo pubblico anche stasera esatto vi ringraziamo davvero anche stasera per averci anche fatto divertire perché soprattutto devo riprendere il nome scusate devo andare su credo fosse Alessio Alessio sì esatto Alessio veramente grazie perché hai illuminato la serata con il documento dovremmo fare una specie di di top 10 dei migliori commenti delle dirette e per ora sei il primo commenti fuori tempo Massimo Massimo Maranarini viene proio o no ne abbiamo parlato a lungo prima sì ma meno di catastrofi mi dispiace interrompere questa diretta perché vedo che alcuni commentatori si stanno scambiando dei commenti meravigliosi tra di loro ma possono continuare possono anche continuare esatto perché comunque il contenuto rimane su Facebook per chi non ci ha guardato in diretta stasera e si è fatto delle ghignate con noi in tempo reale comunque ci trovate ancora su Facebook nei prossimi giorni e il video verrà caricato su YouTube subito dopo che questa diretta sarà conclusa trovate il rimando a YouTube sul nostro sito quindi insomma trovarci è facile detto questo grazie Leo grazie Polli e mercoledì prossimo ormai lo dico io mercoledì quindi non dico più niente cioè no mercoledì prossimo diciamo che ci vediamo mercoledì prossimo e basta perché se lo diciamo poi non succede a meno di ulteriori proroghe c'è l'ospite a meno di ulteriori proroghe c'è l'ospite ed è un ospite che probabilmente ci farà divertire assai quindi buonanotte a tutti e buon proseguimento di giornata per chi ci ascolterà in un secondo momento ciao grazie ciao 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 Grazie a tutti.